Allora, buongiorno, siamo un'altra volta in palestra con Alessandro Riguccini e subito ci spiegherà un nuovo esercizio. Adesso facciamo un esercizio per la preparazione fisica, quello che è il cardio, insomma il fiato, tra virgolette per noi pusili, si tratta di un interval training composto da 8 ripetizioni, correrò per 8 volte 1 minuto alla velocità di 17 km orari, intervallato a 1 minuto e mezzo di pausa, per un totale di circa 16-17 minuti di esercizio, che possono sembrare pochi ma come vedrete durante lo svolgimento sono veramente faticosi. Ok, ci fai vedere l'impostazione del tapirulan? Certo, così almeno abbiamo dei dati precisi piuttosto che correre all'aperto. Lamento manuale. Mettiamo la velocità di 17 km orari, ecco non ce la fa impostare però noi la alziamo in corso di la pendenza 0, tempo, mettiamo una 35 minuti giusto per essere sicuri che ci basti il tempo per iniziare, poi dobbiamo impostare il programma nel cellulare che ci dà i tempi. Adesso premerò start per far partire il tapirulant perché come vedrete io devo salire sul tapirulant mentre lui sta andando perché appunto si tratta di un interval training. Adesso la velocità andrà fino a 15, poi noi la porteremo a 17 e inizieremo questo allenamento. Non mi vedete molto sudato perché al momento ho fatto un allenamento più pesistico, quindi non cardio, ma vedrete che veramente a breve suderò e suderò molto pesantemente. Madonna ma qui sta viaggiando... Sta andando a 15, adesso noi lo portiamo a 17, una velocità di 17 km orari, poi magari fai anche delle riprese da più lontano per far vedere effettivamente qual è la velocità. Adesso noi impostiamo il programma che è fatto apposta per questo esercizio che l'ho impostato io. Ok. E ci siamo. Ok, quindi vi faccio vedere un attimo il tapirulant che sta correndo. E facciamo. Parte la prima ripetizione. Ok, io mi sposto. Mamma mia. Una cosa incredibile. Promettate che stiamo per terminare il primo minuto. Promettate che stiamo per terminare il primo minuto. E' una velocità abbastanza sostenuta. Ancora non è nulla perché la prima si è rimasto. Poi quando lo crediamo nelle altre, è finita la prima. Adesso abbiamo un minuto e 15 di riporto. come vedete la respirazione va. Quindi per riossigenarsi naturalmente. Per riossigenarsi. Si sciogliamo un attimo. Comunque adesso comincio a essere ben allenato e il fiato c'è. Vedrete che riuscirò senza problemi a portare a termine l'esercizio. Volevo far notare che ogni volta che vengo in palestra alterno una fase di pesi, una fase di allenamento cardio perché come ho già detto, noi pugili non abbiamo molto bisogno della massa se non della tonicità del muscolo. quindi bisogna sempre contenere il peso il più possibile. Adesso vedete che mancano circa 20 secondi per la seconda ripetizione. Un esercizio piuttosto breve quindi come potete capire anche per il recupero è corto. Sembra tanto minuto e 15 ma è pochissimo soprattutto andando avanti. Adesso la seconda. Ora vedrete che serie dopo serie sarò sempre più stanco e sempre più sudato. Quante serie? Sono 8 serie. Questa è la seconda. Dei secondi e ripartiamo. Ok, non importa farlo vedere per tutte le 8 ripetute, tanto naturalmente hanno capito. Quindi ora ci interrompiamo con la ripresa e riprendiamo dopo anche con il personal trainer che ci spiegherà un po'. Esattamente. Ok, grazie per ora. Allora qui siamo con il personal trainer di Alessandro Riguccini, il signor Francesco Resti, che ci spiegherà naturalmente quello che sta svolgendo, l'esercizio che sta svolgendo in questo momento Alessandro. Prego. Salve a tutti. Allora, diciamo che personalmente mi occupo della parte di preparazione aerobica per quanto riguarda l'esistenza per l'incontro, quindi gli sto facendo fare un lavoro intervallato chiamato protocollo Cibala, ossia un protocollo che tende a migliorare le capacità aerobiche dell'individuo. Si presenta facendo cosa? Dei cicli di allenamento ad alta intensità molto alta, circa 85-90% del V2 Max, ad intervalli in cui momentaneamente lo farò lavorare su recuperi totalmente in posizione ferma, ossia non attiva, recupero totalmente passivo, ok? Cosa permetterà di fare? Nel lungo periodo, quindi nel proseguo dei vari allenamenti, qui poi inseriremo altri protocolli sempre di lavoro ad alta intensità, questo ci permette di lavorare con un importante carico aerobico in brevissimo tempo. Ciò che faceva una volta il lungo, qui lo riusciamo ad ottimizzare in brevissimo tempo, anche nell'arco dei 20, massimo 25 minuti, quale protocollo Cibala prevede dagli 8 ai 12 cicli. Quindi un lavoro molto intenso, un lavoro che ovviamente non tutti possono fare fin da subito, però dato che Alessandro è un agonista, è una persona che tiene bene i ritmi del genere, stiamo provando, scusate, a fare questo tipo di allenamento in modo tale che il tempo ci faccia vedere un attimino dei miglioramenti senza andare a cercare troppi periodi lunghi di allenamento che portrebbero via tempo, che oggettivamente è molto prezioso e potrebbe fare benissimo altre cose e quant'altro. Quindi periodo breve, allenamento molto intenso, adattamenti enzimatici molto importanti, aumento del bio 2 max, ossia la capacità di trasporto di ossigeno dal sangue, in tempi molto più brevi rispetto alle vecchie preparazioni che prevedevano questo. Perfetto Francesco, una domanda naturalmente che forse tutti i fan e gli atleti ti vorrebbero fare in questo momento, ma questo tipo di allenamento è specifico soltanto per Alessandro per il pugilato oppure è una cosa che va bene un po' per tutte le discipline? Ovviamente è un lavoro che serve per gli sport d'endurance, dato che ossia di resistenza, però dato che Alessandro comunque sia dovrà affrontare un incontro nelle varie riprese, quindi durerà lo sforzo nel tempo, anche se ci saranno periodi in cui sarà fermo fra i round, nel periodo in cui farà il combattimento sarà a regimi cardiaci molto elevati, il che mi porta a pensare che una parte dell'allenamento sia improntata sul migliorare questo tipo di resistenza, ossia uno sforzo protratto nel tempo, quindi riuscire a smaltire quello che è l'accumulo d'acido lattico che poi porta anche alla mancata performance di contrazione muscolare ottima per il quale lui ha bisogno, per il semplice fatto che un pugile deve essere sempre pronto e reattivo sia nel difendersi dall'avversario. Quindi questo tipo di allenamento diciamo che è maggiormente interessante per chi fa sport professionistico? Sì, diciamo che è un allenamento che è molto intenso, quindi non è il classico allenamento della signora Pina, come viene detto in gergo, ma è un allenamento di atleti anche medi e avanzati, ovviamente non è tanto l'allenamento in sé che conta quanto l'intensità che gli viene data all'allenamento. Ovviamente l'atleta più è abile, più è intenso e più l'esercizio sarà ovviamente direttamente proporzionale all'intensità che gli viene data. Perfetto, sei stato veramente una spiegazione semplice, molto tecnica e ben comprensibile. Grazie Francesco, facciamo vedere un dettaglio dell'allenamento. Grazie. Grazie a voi. Ti dobbiamo la stessa ripetizione? Non ho mai fatto eh!